E' partito dalla Toscana il tour italiano a trazione investimenti organizzato dalla regione con il tavolo di coordinamento di cui fanno parte tra gli altri il Ministero dello Sviluppo Economico e quello degli Affari Esteri. Obiettivo dell'evento, gettare le basi di una rete che faciliti l'ingresso di capitali e investitori in Italia e la Toscana con il suo tessuto di oltre 400.000 piccole e medie imprese, distretti industriali e tecnologici, è un esempio virtuoso. Siamo una regione che da subito ha creduto in una collaborazione con il Sistema Italia e non a caso siamo la prima regione che nel 2015 ha firmato un protocollo di intesa con il Mise e con Lice per promuovere l'attrazione investimenti e non è un caso perché siamo una regione che da questo punto di vista si difende piuttosto bene. Nell'ultimo quinquennio siamo la terza regione in Italia come capacità di attrazione investimenti. All'attività di attrazione investimenti della struttura Invest in Toscani creata per supportare gli investitori in Toscana è stato dedicato uno specifico focus dell'evento in regione. A livello nazionale nel 2014 è nato il comitato attrazione investimenti esteri mentre all'estero il primo contatto avviene attraverso l'agenzia ICE nelle nuove principali piazze finanziarie del mondo e i risultati ci sono. In termini di flussi la situazione è decisamente migliorata nel corso degli ultimi cinque anni. In termini di attrittività quello che si può fare è lavorare molto all'estero quindi per portare appunto quella che è l'offerta, le possibilità, le opportunità di investimento. Dopo il debutto in Toscana il tour per l'attrazione degli investimenti toccherà Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Marche.